Amiche e amici di Antenna 2 TV, buonasera e ben ritrovati in una nuova puntata di Antenna 2 Sport. Come ogni martedì sera siamo pronti a raccontarvi le realtà sportive del nostro territorio. Questa sera ci catapultiamo subito ad Ardesio perché c'è un compleanno davvero speciale da festeggiare. Mi riferisco agli amici della polisportiva Ardesio, Poli Ardesio, ma dalla sezione atletica. Buonasera e ben ritrovati. Buonasera. Adesso vado a presentarveli uno a uno perché qui al mio fianco c'è Guerino Donda che è uno degli allenatori. Al centro, Mauro Pierulli che è il segretario proprio della Poli Ardesio. Poi troviamo Silvano Filisetti e in chiusura Erika Fornoni che è una delle atleti e quindi le rappresenterà un po' questa grande famiglia di atleti che fanno parte appunto di questa Poli Ardesio sezione atletica. Inizio subito da te Guerino, compleanno speciale, l'ho detto in apertura, 40 anni di attività. Abbiamo anche un video con alcune foto storiche che avete raccolto, avete presentato anche proprio al Gran Gala Ardesiano. Insomma, è la celebrazione di una società che davvero fa la storia di Ardesio e di questo comune. Sì, l'atletica Ardesio praticamente eravamo un gruppo di ragazzi all'epoca a 22-23 anni. Era l'11 dicembre 1982. Una delle cene che si faceva tra giovani abbiamo detto ma perché non facciamo qualcosa anche per Ardesio, un comune anche abbastanza grosso. E c'è venuta questa idea di costituire l'atletica, anche perché poi c'era Silvano Filisetti, fratello Walter. Loro correvano già qualche manifestazione, qualche gara e è nata questa idea. Avevamo anche il Peppi Fornoni che adesso stiamo vedendo appunto nella fotografia. Lui aveva sempre mille idee, questo è Silvano. E così abbiamo iniziato. Ci siamo iscritti subito al CSI e l'anno successivo al FIDAL, iniziando con le gare campestri, su strada, i campionati provinciali, eccetera. E da lì è iniziata la nostra avventura. Ecco, qua eravamo sicuramente più giovani. Tanti dei ragazzi che abbiamo preso all'epoca 11 anni, 12 anni, oggi sono i genitori dei ragazzi che vengono attualmente in palestra. Mi racconti un po' adesso la Poliardesio come è composta, quanti siete, come vi allenate, quando vi allenate, insomma, qual è la grande famiglia che è attuale, insomma, della Poliardesio? La Poliardesio, nell'anno scorso, grazie a Mauro, Silvio e anche altri, hanno deciso di riorganizzarla un po'. La Polisportiva c'è sempre stata. E in questa riorganizzazione, gli sport, l'atletica, lo sci, il calcio, la pallavolo, che sono anche numerosi, gira e rigira, hanno fatto più di 280 iscritti, cosa che per Ardesio non è poco. Ebbè, insomma, sono numeri davvero importanti per un piccolo, tra virgolette, uno dei più grandi comuni dell'asta del serio, ma effettivamente comunque il bacino di utenza è comunque limitato rispetto a quello che può essere un bacino cittadino, quindi insomma, sono numeri davvero importanti. Vado velocemente da Mauro Pierulli, che è un po' il segretario, credo che chi si occupa effettivamente anche di tutte quelle carte che bisogna fare nel 2023. Com'è organizzare una Polisportiva con così tanti atleti e soprattutto, insomma, questa sezione atletica? Buonasera a tutti, sicuramente non è facile organizzare, sia da parte mia che sono un novello di queste cose, io appunto nasco come segretario alla nascita della Poli Ardesio. Non è sicuramente facile, non ci aspettavamo questi numeri, quindi più i numeri sono alti e più diventa complessa la cosa. Però di sicuro oggi siamo qua a celebrare i 40 anni della sezione di atletica, nata appunto nell'82 e ad oggi i numeri vanno ben oltre il doppio di quelli dell'anno scorso. Non so se è la novità della Poli Ardesio, non so se comunque è la base che dà il riscontro e quando la base nasce nell'82 con delle persone come Silvano, Walter e Guerino, i numeri poi vengono da sé. Tu hai fatto parte anche di questa Poli Ardesio sezione atletica da atleta? No, io ho vissuto per anni in Brianza, sono adottato ad Ardesio, però le mie origini da parte di madre sono di Ardesio, quindi è un po' un tornare a casa. Un ritorno alle origini, però non sei mai stato legato all'atletica prima. Sì, ho fatto atletica fino ai 14 anni, 15, facevo gli 80 metri ostacoli, poi sono passato ai 110, ma mi era difficile perché fino ai 16 anni ero piccolino e poi ho provato a fare i 200 metri, ma per me erano inarrivabili. Insomma adesso però ti sei messo a disposizione della Poli Ardesio, è importante insomma anche darsi da fare per quello che è questa importante realtà per il territorio, abbiamo parlato di risultati di Mauro. Adesso io sono curiosa, voglio sapere, prima di parlare della carriera d'allenatore, dei risultati di Silvano. Hai! Vabbè, li abbiamo visti in tantissime foto. Sì, ho fatto varie gare, però non sono stato un grande atleta, sicuramente il Walter che ha un 2,29 sulla maratona, uno che lavora, è già un bel tempo mio fratello, quello è già un bel tempo, io solo ho fatto gare. Poi servivo un allenatore, ho iniziato quell'attività, ho fatto il mio corso, ho preso il mio patentino e continuo così. Di bello che 40 anni di ragazzi ne abbiamo visti, perché in fondo in fondo 40 anni ma siamo sempre stati noi, perciò i ragazzi che sono venuti sono passati tutti a noi. Poi a un certo punto, per vari motivi, abbiamo deciso comunque di spostare i ragazzi col pool, anche per avere una buona massiccia partecipazione e anche per i ragazzi secondo me è una cosa giusta. Conoscono, si divertono, conoscono altri ragazzi, una bella cosa ecco. Quindi insomma voi principalmente vi occupate del settore giovanile under 14, poi chiaramente quando le cose cominciano a diventare di un livello più elevato si scade. Ecco io dopo guardo lì a Ardesio, però vado anche a Clusone, io posso dire che sono impegnato tutte le sere, dicendolo chiaro e tondo. Come domani sera va bene non vado, ma dopo giovedì ho ancora Ardesio, al venerdì sono a Clusone, al lunedì sono a Clusone, perché ho altre ragazze e teniamo il gruppo assieme, ecco, perché è una cosa giusta. È bello, sei impegnato. C'è un ricordo che hai da atleta, proprio con la polisportiva, magari un aneddoto, insieme ai tuoi compagni, insieme al Guerino, insieme al tuo fratello Papa? Mi ricordo che abbiamo fatto un campionato, non so che gara era, non so se era un campionato o qualcosa che avvenna in corsa a montagna. Non avevamo il terzo, abbiamo fatto correre un ragazzino, ci hanno lasciato correre un ragazzino che non era forse neanche allievo. E mi ricordo che avevamo preso, pioveva di rotto, avevamo preso 100.000 lire, siamo venuti e abbiamo festeggiato tutta sera. Questo, diciamo, è stato... C'era anche Guerino. Sì, sì. Avete festeggiato, Guerino? Sì, no, ma se non erro male, Guerino, abbiamo fatto 100 metri col Pepi in Svizzera, sotto un'acqua battente. Per fare il battesimo internazionale dell'Atletico. Eravamo scesi in Svizzera e abbiamo corso sotto l'acqua un pezzo, sì. Cose belle, ecco. Un altro, mi ricordo che a una gara, mi sembra a Santo Mobono, c'era un ragazzo che adesso è una stazza di ragazzo, proprio grande e anche ben robusto. E mi ricordo che nevicava, l'unico in canottiera era lui. Una cosa allucinante. Non sentiva nemmeno il freddo. Cose belle, ecco, da ricordare, ecco. Comunque, 40 anni sono 40 anni, sono tanti. Ci sono delle ragazze che a loro correvano, che adesso sono addirittura nonne, perciò c'è da essere contenti, ecco. Assolutamente. Mentre Guerino pensa un altro aneddoto, perché chiuderemo con te. Io invece voglio sapere qualcosa di più sul tuo gruppo, sul gruppo che alleni. Ci hai già detto che ormai sei diviso tra tutte le sere per quello che sono gli allenamenti di atletica. Ma come sono questi giovani leve che stanno crescendo in quel diardeggio? Ma se lì sono cinque o sei. Prima avevo anche le grandi, che adesso si sono spostate anche per lavoro così. Avevo Sara Nadir, Erika, che vabbè, quello ha avuto altri problemi. Irene Faccanoni, la sorella. Adesso ho fatto un po' lavoro, un po' studio, non riesco più neanche a seguirli. Le seguo, mi sembra un po' Jacopo, mi sembra. Le altre sì, ho lì sei o sette ragazze, un ragazzo che comunque si impegnano. Non sono di livelli grandissimi in questo momento, però si impegnano. Ecco, è già quello un bel risultato. Perché a quell'età lì, insomma, forse avrebbero qualcos'altro di meglio di fare che correre. E invece si impegnano ancora nell'atletica, insomma, bello. No, no, si impegnano, si impegnano, sono contento per quello. Che portino avanti anche la tradizione, insomma. Ma sì, è uguale. E a tal proposito, al proposito di atleti, io vado a presentarvi Erika Fornone, che è un po' la rappresentante di tutti questi atleti, di questi giovani leve che stanno crescendo proprio per la Poliardesi o sezione atletica. Erika, raccontaci qualcosa di te. Quanti anni hai? Insomma, qual è la tua specialità? Dove ti trovi meglio? Quando hai iniziato a fare atletica? Allora, io vado in terza media, ho 13 anni. E ho iniziato a fare atletica quando ero in seconda, terza alimentare. Mi sono sempre trovata bene. E ho iniziato appunto andando a Clusone, poi andando un po' a Ardese, un po' a Clusone. E sono stata sempre bene, quindi mi sono fermata, non ho cambiato sport. Qual è la tua specialità? Preferisci le lunghe distanze, preferisci le corte, pista, campestre, stalla? Allora, io preferisco la campestre. Vado meglio nelle corte e distanze, non troppo lunghe, però mi piacciono anche quelle. Mi metto in gioco. Invece quanti sono gli allenamenti settimanali? Quanto è l'impegno in terza media? Comunque in Cester c'è anche un impegno importante a livello scolastico. Io ne faccio due alla settimana, martedì e giovedì. E quindi insomma, riesci comunque a conciliare tutto? Sì. E con il gruppo com'è? Come siete? Come siete affiatate? Ma sì, mi trovo bene, è un bel gruppo. Ho gli amici, le mie compagnie di classe, comunque mi trovo bene. E gli allenamenti come sono duri? Ah, dipende dai giorni. Puoi dire, gli allenatori non ti sentono, puoi dirlo. No, vabbè, alcuni giorni faccio un po' più di fatica, però altri sempre fatica, però me la cavo. Te la cavi, insomma, te la cavi. Prossimi appuntamenti, prossime gare che hai in programma quali sono? No, non lo so. Non lo so, insomma, vedrai nel frattempo, vediamo adesso passando la stagione, magari si scalda anche un pochino, cominciano a diventare le gare anche un po' più interessanti, soprattutto dal punto di vista meteo, per chi come me magari va a seguirle, effettivamente comincia a diventare impegnativo. Lo dovevo, al nostro guerino d'onda, non abbiamo parlato dei tuoi aneddoti, non abbiamo parlato di quello che è stato il tuo passato con la Porierdesio, ce ne hai trovato uno, ce ne racconti uno, per farci così, sorridere e anche tornare in passo indietro nel tempo. Sì, tornando indietro, dobbiamo dire che in effetti quando abbiamo iniziato con i ragazzini, cioè, vabbè, non erano gli anni 60, era l'80, però avevamo dei ragazzini, uno in particolare, che mi ricordo una gara, eravamo in macchina col Peppi Fornoni, il ragazzino era dietro, stavamo scendendo a Bergamo e sulla sinistra sorge il sole. Il ragazzino fa, ma Peppi, per dirti l'ambiente, come si partiva proprio dalla semplicità, niente di organizzato, niente di semplicità con questi ragazzi, che era anche l'occasione che iniziavano un po' a spostarsi fuori dal paese. E quello è sicuramente una bella cosa per questi ragazzini, oggi sono più smaliziati sicuramente, sono più social, hanno molte più possibilità. Prima praticare atletica, hai ragione, era proprio anche un momento per uscire fuori dai confini del paese, conoscere altre realtà, conoscere altri paesi, insomma, immagino che bel momento di confronto. Sì, sì, anche perché poi eravamo tutti in compagnia, la squadra era, se prendevamo il settimo posto la squadra, siamo arrivati anche a un secondo posto di società provinciali. La festa era grande perché la sentivano questi ragazzi. E quindi, insomma, era davvero bello, abbiamo cercato di rivivere anche attraverso questi simpatici enedoti, questi 40 anni della Poliardezio Sezione Atletica, ma io vado da Mauro Pierulli per la chiusura definitiva, lui che è il segretario, facciamo impazzire anche un po' il nostro Felix, se non me ne voglia. Lui che è il segretario di questa società, per chi voleste venire a iscriversi e a far parte di questa grande famiglia, cosa deve fare? Chi vuole iscriversi può mandare una mail a poliardesiocchiocciolagmail.com e chiedere informazioni, noi saremo ben contenti di darglieli. Ce l'ha già detto la nostra Erika, martedì e giovedì comunque siete fissi sul territorio. Sì, questo è come atletica sicuro. Quelli sono i giorni fissi dove potete trovare sia gli allenatori, sia il segretario Mauro, ma insomma tutti gli amici della Poliardesio Sezione Atletica. Io vi ringrazio, grazie per essere stati qui con noi, grazie per averci raccontato la vostra realtà e soprattutto ancora buon compleanno per questi primi 40 anni di attività. Voi rimanete con noi perché dopo la pubblicità iniziamo a ballare. E abbiamo appena salutato gli amici della Poliardesio Sezione Atletica. Ve lo avevo anticipato, è il momento di ballare, di ballare seriamente con una simpatica, spumeggiante e soprattutto allegra Giussi Gaiti. Buonasera e ben ritrovata. Buonasera a tutti, grazie dell'invito, sono felicissima. Grazie a te di essere tornata a trovarci. Ho detto ballare ma effettivamente con te si fa zumba. Questa tecnica molto particolare di danza energica, possiamo definirla così? Sì decisamente, zumba è un connubio tra danza e fitness ed è per tutti, è efficace, facile, divertente, proprio per tutte le età. Poi giustamente in casa zumba hanno anche differenziato l'offerta e quindi zumba fitness è quella più classica. Però poi ci sono tantissime speciality, per esempio zumba gold che anche riguarda le persone più di una certa età. Quindi alla fine è per tutti, basta iscriversi, venire, provare e poi è gioia completa. Per noi è un piacere riaverti qui nei nostri studi, nel nostro salotto per raccontare anche di questo che è uno sport, insomma è un'attività che fanno davvero tante persone, soprattutto nelle nostre valli. La domanda sorge spontanea per i amici che non ti conoscono, come ti sei avvicinata allo zumba, questo simpatico anche modo di muoversi. Sì, io adoro il ballo in generale, anche se non ho mai studiato danza da piccola, perché i miei genitori diciamo non mi ci hanno mai portato per diverse vicissitudini, non ho mai studiato da bambina danza, però ricordo che anche di fronte alla televisione, in casa io comunque muovevo dei passi. La musica è sempre stata per me gioia, è fonte di vita, ispirazione e pian piano mi sono avvicinata al mondo latinoamericano e lì invece sul campo ho cominciato invece a testare un po' la mia pratica. e invece infine mi sono avvicinata a Zumba perché un mio compagno di danza, con cui facevamo anche degli spettacoli e degli show in una scuola di danza del territorio, mi ha proposto questa attività, lui l'ha scoperta prima di me, me l'ha proposta e così abbiamo iniziato assieme. Lui aveva aperto una società e mi ha chiesto dai, forza, cominciamo, che anche in Italia sta prendendo un po' piede. Ed effettivamente ho iniziato un po' di anni fa, Zumba nasce 20 anni fa esattamente, però io l'8 dicembre scorso ho compiuto 10 anni di struttrice di Zumba e diverse discipline. Buon compleanno! Grazie, grazie, l'ho appena soffiato su queste cannelline. Insomma è un traguardo davvero molto importante, nel frattempo noi stiamo mostrando il video che ci hai portato, che è un video che riassume tutte le discipline dello Zumba, da quelle più soft a quelle più dedicate al fitness e ai motori, insomma, cioè davvero per tutti i gusti. Sì, sì, decisamente. Infatti queste poi sarebbero anche un po' da aggiornare, però effettivamente non riuscirei a contenere in un video anche un po' pubblicitario tutte le attività che ho studiato. Ho 30 certificazioni fitness, dalle più, diciamo, più modaiole, diciamo, piuttosto che quelle più tecniche e ovviamente ogni anno invece seleziono quelle da insegnare. Quest'anno per esempio ne insegno 7. L'ultimissima, per esempio, non c'entra con Zumba, però mi sono appassionata alla Rimini Wellness, andando alla Rimini Wellness, cioè all'appuntamento annuale per noi del fitness obbligatorio. Fiera del fitness per eccellenza, insomma. Ho visto svariate attività, ogni anno vado per guardare un po' le novità e mi ha appassionato tantissimo Super Jump, che esiste già da un po' di anni, però ho visto molta partecipazione quest'anno e infatti questo è l'attrezzo che ci hai portato questa sera, quindi abbiamo anche un attrezzo. Ce lo vuoi spiegare come viene utilizzato, come si fa a muoversi sopra questo trampolino? Già, esattamente, esattamente, perché questa è la definizione. Super Jump è un'attività su trampolino elastico, non dobbiamo pensare a una risposta elastica grossissima, come quelle dei trampolini per i bambini, quindi non c'è problema, non si prende un rimbalzo da toccare il soffitto e cadere, questi sono magari i principali timori delle ragazze, le prime domande che mi fanno, e si cade? No. È stabile. È un allenamento, è stabile. Come vedete anche la nostra Giuse, che lo ha fatto per noi qui direttamente negli studi, che spettacolo ho assistito anche a questa lezione. Qualche piccolo movimento esplicativo, già. È molto, molto divertente. Si torna effettivamente bambini e la gioia di saltare fa sì che l'allenamento va via veloce e nemmeno te ne stai accorgendo. Però, appunto, è sicuro, è stabile. E io ho scelto, fra tutte le discipline che poi sono nate su trampolino, la principale, cioè quella ideata da Jill Cooper, la conosceremo tutti, è un guru del fitness, insomma. E quindi, insomma, anche questa nuova specialità, oltre allo Zumba, che stai portando nelle palestre dell'Alta Valle Siriana. Esatto, esatto. Principalmente adesso, siccome il mio calendario era già molto pieno con Zumba Fitness Classica, Zumba Kids, Zumba Toning con i pesetti, Zumba Step con lo Step, poi Yoga Flex Fitness, e non mi ricordo se ho perso per strada qualcosa, però, insomma, sono queste le discipline. Questo, per esempio, lo insegno al momento alla palestra a Lovere. mi trovate là. Ci sono già due appuntamenti, però ho tantissime richieste di questo trampolino, perché sta proprio riscuotendo tanto interesse. Quindi, a breve, anche in Valle Siriana, chi mi seguirà scoprirà dove lo attiverò. E' bellissimo, ha tantissimi benefici, oltre, diciamo, divertirsi, saltando e ballando, ha tantissimi benefici. L'ho scoperto facendo il corso, e di alcuni benefici mi sono anche veramente stupita, perché diminuisce il colesterolo, abbassa la pressione arteriosa. A tutti gli effetti è un esercizio cardio, promulgato. Cardio e, diciamo, pompato, non si può dire, non mi viene la parola tecnica, proprio esagerato. Tutto quello che succede lì è quintuplicato, amplificato, bravissimo, amplificato. Aumenta del 14% la risposta lavorativa degli stessi esercizi se tu li facessi a terra. Il dato, invece, che mi ha sconvolto di più è che aumenta del 1400% il ritorno venoso, che praticamente è un tema molto interessante per le donne, che spesso non amano i propri anestetismi riguardanti le gambe, gambe gonfie, cellulite, e questo è proprio adattissimo. Sgonfia, drena, ed è veramente divertente. Uno non si accorge, salta per un'ora. Oltre anche a bruciare, sì, rispetto all'energia che uno dà in questa lezione, può bruciare dalle 400 alle 800 calorie, che non è male. Eh, non è male, insomma. Che venendo dopo le vacanze natalizie... Può mangiare anche un piatto di pasta in più, poi. Sì, 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 precisamente. Può mangiare anche un piatto di pasta in più. Insomma, ci hai spiegato nel dettaglio anche di più su questa tecnica davvero molto particolare. Credo che alle donne, all'ascolto, la cosa più interessante sia quella relativa alle cellulite, gambe gonfie, anestetismi, che insomma ne risentono. Ma insomma, il movimento è una cosa bellissima. Prima, mi hai fatto riferimento a tutti quelli che sono i tuoi tipi di Zumba, e tra questi hai citato la Zumba dedicata ai bambini. Zumba Kids è un'attività, quella che proponi davvero, adatta a tutti, ad ogni fascia d'età. Sì, decisamente. Zumba Kids fa divertire i bambini. È una disciplina non agonistica, per cui va benissimo anche una volta a settimana, e lo propongo alle fiorine di Clusone il martedì, ad esempio. Va benissimo anche solo una volta a settimana, ci si può scrivere mensilmente. E nulla, Zumba Kids, sì, semplicemente è una Zumba, ma applicata ai bambini. Non si fanno esercizi come squat, affondi, non ne hanno bisogno e bisogna rispettare la crescita del bambino. Quindi questi esercizi assolutamente vengono saltati. Come anche magari, ci hanno insegnato il corso, non si possono fare tutte queste movenze che invece a Zumba Fitness classica ci permettiamo per aumentare l'autostima. Quindi facciamo anche qualche movimento sexy, si può dire. Ecco, con i bambini ovviamente no, si fanno delle cose giocose. Intervalliamo il ballo con anche delle spiegazioni relative al paese da dove deriva Zumba, ovvero la Colombia e Latino America in generale. Quindi si portano delle piccole informazioni ai bambini, ma sempre sotto forma o di fiaba o di racconto, di leggenda, di gioco, anche sotto forma di gioco, alternato al ballo, perché non deve essere una scuola, altrimenti si devono venire anche a studiare, anche all'ora di Zumba. Però sì, i bambini si divertono tantissimo. Non solo bambini, ma anche i meno giovani partecipano a queste lezioni. Sì, decisamente. Zumba Fitness è adatta dai 12, per esempio, ai 60 anni. Poi sarebbe indicata una più apposita per loro, cioè Zumba Gold. Però veramente abbraccia qualsiasi tipo di età perché alla fine è un'attività cardiovascolare con cui principalmente ci si mette in moto tutto il corpo, il cuore in assoluto, lo andiamo ad allenare. È stato anche stabilito che le persone che fanno Zumba regolarmente hanno un'incidenza probabilistica di avere incidenti domestici minore, inferiore. Quando tu fai Zumba, o similari anche cardio, sei più allenato, sei più attivo, sei più coordinato, quindi sarai più portato ad un inciampo, per esempio, a rispondere a terreno meglio, ponendo le mani. Si allenano anche i riflessi, insomma, grazie allo Zumba. Sì, decisamente. Noi abbiamo visto, grazie alle immagini del nostro Felix, anche una bellissima foto con te, con in mano dei palloncini rosa, anche perché sei stata scelta, eccola qui, proprio dal Comune di Clusone per lanciare un messaggio importante. Già, sì, sono felicissima. È ormai tantissimi anni che le signore della delegazione di Clusone, della Lilt, mi invitano. Quando vedo che si immagini, quando penso a questa cosa, mi commuovo sempre un po', perché sono veramente onorata di far parte di questo gruppo. Vengo chiamata per quello che so fare, insomma. Le attivo un po', e facciamo del riscaldamento o piccoli balli, prima di intraprendere la camminata. Si chiama la manifestazione Tutte in Rosa, avviene sempre una passeggiata tranquilla e gratuita, aperta a tutti, in cui partiamo sostanzialmente da una piazza di Clusone, sostanzialmente sempre Piazza Sant'Anna. Per concludere, facciamo tutto il giro di Clusone portando i palloncini, simbolo della ricerca per il cancro, al tumore, al seno. Lo portiamo da tutti gli esercenti, tutti i commercianti, così lo espongono un po' in vetrina, nel mese poi, clou della prevenzione. Lanciamo questo messaggio della prevenzione, e poi spesso faccio anche un piccolo intervento, mi chiedono la connessione sport e prevenzione. Sport e anche durante la malattia, insomma, la connessione positiva che c'è. E ha tantissimi benefici, giustamente, lo sport, perché anche mentali, non dobbiamo dimenticarcelo. Le persone, insomma, che hanno passato questa brutta situazione o la stanno vivendo, con lo sport e soprattutto di gruppo, una persona va a lezione, stacca un po' mentalmente, insomma, si rigenera. Si rigenera, chiaramente, anche lanciando poi un messaggio come quello che hai fatto tu ad ottobre, ma che lo stai facendo adesso nel nostro salotto, proprio un messaggio davvero molto importante di attenzione e di prevenzione, proprio la lotta del tumore al seno. Abbiamo parlato di donne, abbiamo parlato tanto di donne, perché lo Zumba principalmente è uno sport al femmile, ma c'è qualche maschietto? Eh, pochi, pochi, sì, ne ho conosciuti alcuni, però sono veramente pochi. Nelle nostre valli, diciamo, ancora veramente pochi. Quando insegno, per esempio, in città o vado a masterclass con colleghi o ai Deventi, la percentuale maschile già un po' si alza, si aumenta decisamente. Forse perché in città c'è più bacino di utenza, non lo so, la probabilità, ma di si può alzare. Io so solo che sicuramente nella percentuale ho notato che sì, le donne tendenzialmente sono un po' più portate al ballo, ma più che altro alla coordinazione, però principalmente io credo che sia anche un fattore culturale. In Latino America mangiano ballando, lavorano ballando, scendono dalla macchina e ballano, per cui la loro cultura è permeata di ballo e di musica, per cui anche i maschi ballano sostanzialmente. Invece qui non sono proprio tanto sciolti. I berghia maschi dell'Alta Valle Seriana sono un po' più rigidi. Sì, sì, sì. Ma io ci metto anche le donne, nel senso che io non mi cimento in queste cose perché oggettivamente non... Però insomma, ognuno... Vengo e vorrei venire davvero volentieri a una tua lezione anche solo per cercare di smaltire un po' di chilocalorie, quello sì, ma chissà se mi viene così facile il movimento come esce a te, ma mi piace anche il discorso dell'autostima e dello specchio. Prima ci hai insegnato e ci hai parlato davvero di tanti movimenti. Un'ultima battuta perché siamo in chiusura, anche il tempo a nostra disposizione sta per terminare, anzi vorrei dire è volato con te, Giusy. Qual è il tuo zumba preferito? La tua specialità, disciplina preferita? La mia specialità preferita al momento è zumba toning, che è quella con i pesetti, per cui andiamo ad tonificare la parte superiore, soprattutto del corpo. Mi piace perché da quando appunto mi riaggancio alla Lilt, quando abbiamo fatto questo passaggio sport e prevenzione, sport e aiuto per le persone che hanno passato anche questa malattia e hanno subito magari anche l'asportazione al seno, facendo questi allenamenti anche maggiorati con i pesetti, con la musica di zoom uno se ne accorge e vola. Il tempo è volato e tu ti sei allenato e aiuta tantissimo per questa parte delle donne. E questo è un messaggio davvero importante per tutti gli amici a casa che sono interessati a venire a far parte delle tue classi, delle tue lezioni, cosa devono fare? Beh, cercarmi sui social, sono ovunque, su Instagram, Giusy Gaiti 2, perché il primo me l'hanno clonato, ma beh, pazienza, l'ho rifatto, non si muore di Instagram. E nulla, invece anche Facebook, chiaramente, Giusy Gaiti, li trovate lì. Lì trovate tutti i riferimenti, soprattutto tutte le palestre dove potete trovare la nostra Giusy, lo avete visto anche qui, si può ballare, danzare, fare zumba anche in uno studio televisivo, l'ho fatto lei, penso che sia la prima volta che succede in Antenna 2, chiederemo al nostro Felix di certificare, insomma, come il notaio, questa cosa. Grazie mille davvero, Giusy. Voi rimanete con noi, perché dopo la pubblicità siamo pronti ad accogliere, invece, un altro campione, campionissimo di mountain bike. Terza ed ultima parte di Antenna 2 Sport, e come vi ho anticipato poco prima della pubblicità, è il momento di aprire le porte del nostro salotto a un grande, grandissimo campione che ritorna ad Antenna 2 Sport dopo un po' di anni, insomma, ricordava appunto Lorenzo Norris che era seduto qui prima di me su questa sedia, su questa poltrona, insomma, benvenuto e ben ritrovato a Marzio Deo, campione mondiale master di mountain bike 2022. Buonasera, Marzio. Buonasera, grazie dell'invito. Innanzitutto, grazie a te per essere tornato qui nei nostri studi, qui nei nostri studi di Antenna 2. Innanzitutto, insomma, è stato un altro anno, un'altra stagione davvero del corniciale per quanto riguarda le due ruote per te, perché, insomma, come ho già anticipato, hai vinto questo campionato del mondo master di mountain bike 2022. Sì, negli ultimi due anni ho rallentato un po' la mia attività agonistica, in quanto più che atleta adesso sono un po' team manager della mia società, per cui gestisco i miei ragazzi e ogni tanto mi diletto appunto a gareggiare. Quest'anno c'è stata l'occasione che i campionati del mondo master, al mio primo anno da master, perché fino allo scorso anno sono stato ancora un atleta elite, ed erano in Varendena a Pinzolo. Ho preso l'occasione di partecipare, mi sono preparato al meglio nell'ultimo mese e mezzo prima dell'evento e sono riuscito anche a coronare vincendo questo campionato del mondo a livello assoluto. Insomma, una grande, grandissima soddisfazione. Il guizzo delle campioni non è ancora passato. Sì, sto bene fisicamente, sto bene atleticamente, la passione non mi manca, per cui se voglio ancora prepararmi riesco ancora a essere competitivo ad abbastanza buon livello. Te lo aspettavi? Ma pensavo di fare una buona gara, di riuscire a vincere addirittura all'assoluto questi campionati del mondo master, no, perché ci sono atleti molto più giovani di me, anche i vent'anni più giovani di me, che sono ancora ad alto livello internazionale. Però mi sono preparato, ci ho creduto e l'appetito viene mangiando e anche durante la gara, ecco, pian pianino sono andato in recupero fino a riuscire a rimontare fino alla prima posizione negli ultimi chilometri. Ci racconti come ci si mantiene in forma comunque dopo tanto tempo e si mantiene in uno stato di forma per un lungo periodo, soprattutto di attività agonistica. Come si rimane atleti per così tanto tempo? Ma non lo so, forse più che altro credo che sia la passione che ci porta avanti a fare anche tanti sacrifici per riuscire a rimanere a determinati livelli. Adesso negli ultimi anni, come ho detto, la prendo un pochettino più con filosofia, per cui non ho più ambizioni e velleità di vittoria, per cui mi viene tutto molto più facile. Anzi, forse questa pressione che viene meno favorisce ancora di più i risultati. Potrebbe anche essere, però ho allentato molto la preparazione, sto bene fisicamente, ecco, più che altro penso sia quello che mi porti ad andare avanti e non avere problemi. Mi hai detto e mi hai svelato anche che sei team manager di una società, ci vuoi parlare, insomma, anche di questo tuo secondo impegno dedicato alle due ruote. Sì, sono legato a Olimpia da tantissimi anni, praticamente da oltre 20 anni che sono legato a questa società veneta e negli ultimi anni sono appunto, come ho detto, il team manager con 4-5 atleti, tra cui una ragazza che, tra l'altro, è la campionessa italiana Marathon ed è una delle più forti al mondo. E quindi, insomma, non è proprio l'ultimo arrivato quando vi dicevo davvero un grande, grandissimo campione. Davvero è speciale ad averti qui anche perché sono curiosa anche di sapere qualcosa in più delle tue gare. C'è un ricordo particolare di una vittoria che vuoi condividere con noi, condividere con il nostro pubblico? Ma, dopo tantissimi anni di attività, circa 30 anni di gare, sono centinaia, centinaia, centinaia di gare che ho partecipato, beh, è difficile avere un ricordo particolare che sono state anche parecchie le vittorie. Adesso, come adesso, non so dirti, comunque, ci sono state vittorie di prestigio, molto combattute con avversari di altissimo livello internazionale, campioni olimpici o campioni del mondo nei vari anni. Sì, ho avuto parecchie soddisfazioni per questo. Vabbè, assolutamente. Non è solo la bici, non è solo mountain bike, non sono solo le due ruote, ma insomma, durante il periodo invernale e io ho scuriosato anche sul tuo profilo Instagram, ho visto un sacco di immagini e di foto sui sci. Anche questa è una tua grande passione? Sì, è sempre stata la mia grande passione invernale. Lo sci alpinismo lo pratico da tantissimi anni, ho sempre anche praticato le gare, anche le nostre gare che facciamo qui nelle nostre Orobie sono sempre state presenti. Adesso, vabbè, durante l'inverno, soprattutto in quel periodo qua, dal lockdown in poi, che le gare si sono un po' attenuate tutto, la mia passione non è diminuita e lo pratico nelle nostre montagne soprattutto. Ce ne sveli una, dove ti piace allenarti? Vabbè, qua da noi i posti principali dove ci si allena sono la zona degli spiazzi di Lizzola, sono le nostre Orobie che sono fantastiche. Adesso che è arrivata anche la neve, mi sa che c'è da divertirsi. C'è da divertirsi un po' di più, anche se gli ultimi due inverni sono stati molto di magra, però speriamo anche nei prossimi giorni che ne arrivi ancora per proseguire l'inverno al meglio. Hai detto che fai anche le gare di sci alpinismo? Sì, ho sempre fatto gare da anni, soprattutto il nostro circuito che c'è sempre stato fino a due o tre anni fa, sci e luci nella notte, era un circuito notturno che copriva tutte le nostre varie località, dagli spiazzi a Lizzola, Colere, Montepora, quelle le ho sempre praticate, oltre alle classiche, le classiche dallo sci alpinismo orobico, che ci saranno nelle prossime settimane dal campionato italiano che organizzerà il gruppo di Clusone, appunto a Colere, la Timonio Sky Ride e le nostre principali gare. Quindi non manchi mai, insomma ad ogni appuntamento, sia sull'eroratec sia sugli sci, è davvero, sai anche un atleta poliedrico, è difficile essere, insomma un atleta di alto, altissimo livello come te, su due sport completamente diversi. Sono attività che possono anche coincidere una con l'altra, perché è sempre un modo di restare preparati e allenati anche lo sci alpinismo, per cui è giusto anche dal mio punto di vista, è giusto staccare durante l'inverno un po' dalla bicicletta per fare attività alternative che comunque sono molto allenanti. Eh sì, insomma, poi sono competizioni davvero belle in mezzo alla natura. Tu ricordavi prima queste gare notturne, speriamo che vengano riproposte presto, perché anche solo l'atmosfera che si vuole respirare davvero in notturna, sulle nostre montagne, è davvero qualcosa di bello, di magico. Sì, esatto, è bellissimo, infatti è un modo anche di aggregazione per tutti gli appassionati di questo sport e trovarsi come era prima al mercoledì sera a fare queste gare notturna e poi finita la gara trovarsi al ristorante per le premiazioni e mangiare tutti insieme. Eh sì, lanciamo un messaggio agli amici organizzatori, chissà che magari anche grazie a questa chiacchierata arrivi qualcosa che si possa organizzare qualcosa proprio sulle nostre montagne, sulle nostre piste proprio relativa allo sci alpinismo in notturna. Tornerei velocemente invece alle due ruote e a qualcosa di grande che si è organizzato proprio quest'estate, mi riferisco proprio alla Presolana Race e vediamo qui le immagini di questo importante evento che ha coinvolto Rovetta, Castione della Presolana e ti ha visto protagonista proprio nel disegnare il tracciato, evento organizzato chiaramente da te ma in collaborazione con Promo Serio e la società Martinelli di Albino. Sì, alcuni anni che organizziamo una gara maraton qui in provincia di Bergamo nella Valseriana gli anni scorsi è stata organizzata a Nembro con la denominazione di Valseriana Marathon e invece proprio dal 2022 è nata la prima edizione di Presolana Race con partenza a Rovetta e questa gara copre tutta la nostra conca della Presolana toccando i posti più suggestivi dell'Alta Valle. Eh sì, da Rovetta sino al Montepora praticamente, il ritorno. Esatto, da Rovetta prima si transita al passo della Presolana attraverso Castello Orsetto il Salto degli Sposi si arriva al Colle Vareno per poi scendere ancora in valle fino a onore con la conclusione appunto nel centro di Rovetta. Ormai sei uno specialista dell'organizzazione anche di questo tipo di eventi, di manifestazioni. Come si prepara un tracciato? Sì, un po' di esperienza adesso ce l'ho dopo diversi anni. È molto impegnativo con molte problematiche e tutti gli anni andiamo incontro anche a questo. Comunque siamo un gruppo un gruppo ben affiatato sono io con la collaborazione di Promoserio e il gruppo sportivo Marinelli di Albino e appunto come ho detto siamo un bel gruppo e abbiamo una certa esperienza per cui la mettiamo in campo per riuscire a organizzare al meglio anche questo evento che riproporreremo nel 2023 spostandolo di un paio di mesi e la data sarà il 24 di settembre. Ah, quindi c'è già una data c'è già una seconda edizione di questo Presolana Race che peraltro aveva fatto davvero il boom di iscritti quasi inaspettato. Sì, c'è stata una buona partecipazione speriamo ancora di crescere come numeri la gara è piaciuta a tutti i partecipanti perché anche tanti bergamaschi tanti luoghi in cui siamo passati certi percorsi, sentieri, single track così non li conoscono e l'hanno potuti conoscere partecipando appunto questa manifestazione. Eh sì, guardate anche queste immagini lo spettacolo, insomma dei paesaggi toccati proprio in questa gara in questa competizione chiaramente tutto in sella alle mountain bike poi qui l'arrivo in quel di Lantana sbaglio? No, l'arrivo è proprio a Rovetta dietro il parco di Rovetta la gara anche quest'anno è stata di altissimo livello con i partecipanti con i migliori che sono atleti di livello nazionale Sono chiaramente di livello nazionale qua la Marinelli di Comenduno di Albino che è stata una degli organizzatori insieme chiaramente a Promoserio e a tutti gli altri che vedete in questo video bello, bello è stato davvero sono stati momenti di sport meraviglioso bellissimo in quelle della Presolana insomma abbiamo già la data 24 settembre per la seconda edizione quindi scrivetelo potete iniziare a allenarvi insomma anche solo per stare dietro a Marzio e a tutti i grandi campioni che prenderanno il via a questa importante gara noi siamo curiosi Marzio io di solito insomma chiedo a tutti i nostri campioni che vengono qui a trovarci nel nostro studio qual è la loro giornata tipo qual è la giornata tipo di un atleta come te che poi insomma deve anche conciliare impegni di lavoro famiglia insomma tutto il resto come ci si organizza? Ma ormai è una vita che la trascorro così ho sempre avuto abbastanza libertà anche come tempo libero per potermi allenare ovviamente la mattina l'ho sempre dedicata alla mia attività principale lavorativa e bene o male nel pomeriggio qualche ora per l'allenamento l'ho sempre avuta e cerco di averla anche da adesso da adesso andare avanti anche se ho allentato un po' l'attività Quali sono invece gli itinerari che preferisci con la mountain bike dove ti piace allenarti quando insomma arriva la primavera si comincia a tornare in sella alla bici? Ma qui nella nostra Valseriana abbiamo parecchie zone dalla zona del Monte Misma alla zona del Monte Poieto Selvino che sono i posti più vicini a casa mia ovviamente adesso con l'organizzazione della Presolana anche dallo scorso anno mi sono portato abbastanza in Alta Valle per poter anche io cercare conoscere sentieri sempre migliori Invece come sta la mountain bike bergamasca? Ma come numero di partecipanti abbastanza buono mancano mancano un po' livello agonistico e di alto livello perché ancora alla mia età posso dire ancora la mia a livello provinciale e non solo vuol dire che mancano i rincalzi Cioè ci sono i numeri ma effettivamente c'è poca qualità dietro alle spalle Sì che più che altro vabbè adesso ci sono anche diverse società giovanili che stanno facendo crescere i ragazzi e fanno un grandissimo lavoro però nei prossimi anni speriamo che riesca a emergere qualcuno che possa sostituire atleti ormai come me che sono passati e anche il mio caro amico Johnny Cattaneo che è stato di altissimo livello anche lui per anni che ha smesso alla fine del 2022 però dietro di noi non c'è nessun atleta elite a livello nazionale E quindi insomma anche un appello alle nostre società insomma di cercare di portare un po' più di qualità in questi atleti allenamenti e insomma portare avanti anche i più giovani anche se come diceva chiaramente Marzio la mountain bike è uno sport che continua a piacere e fa registrare davvero anche un incremento proprio degli iscritti Un'ultima battuta poi ti congediamo Marzio c'è un messaggio che vuoi lanciare a tanti atleti o a tante persone che insomma come te amano lo sport e amano praticare anche sport diversi Vì quello di continuare a praticare lo sport che è bellissimo contatto con la natura è il massimo del divertimento e penso che come tutti gli sport outdoor la bicicletta è una bellissima passione L'ultimissima cosa prossimi appuntamenti del 2023 ci hai già detto delle gare chiaramente sugli sci ma in sella alla tua bici dove ti troveremo? Vabbè come la stagione è praticamente già iniziata perché ho partecipato alla gara dell'Epifania Calusco-Dada che è la gara più storica che abbiamo in Italia con un buon quarto posto assoluto e niente vabbè io come ho detto non mi prefisso nessun appuntamento seguirò il mio team che verso la fine di febbraio in marzo inizierà l'attività a livello nazionale con tutte le principali gare che ci saranno del calendario in Italia e con qualche puntatina all'estero tra cui la Coppa del Mondo Marathon e qualche gara tappe e chissà che magari troveremo ancora protagonista ma qualcosina riuscirò a fare quando non dovrò seguire proprio i miei atleti anzi se vanno forte sicuramente correrò meno però e me lo auguro che vadano comunque un po' di spazio anche per me ce l'ho visto che nel team abbiamo anche parecchia gente che ci dà supporto tecnico e che ci segue per cui ho un po' di spazio anche per la mia libertà e questo è davvero molto importante in bocca al lupo a Marzio Deo grazie mille per essere tornato qui nei nostri studi ad Antenna 2 per esserti presentato e aver raccontato anche questo 2022 della tua carriera soprattutto insomma anche dei tuoi ricordi grazie davvero in bocca al lupo a te la tua società questo è l'Antenna 2 Sport vi ricordo che potete rivedere questa intervista ma chiaramente anche tutta la nostra puntata sul canale YouTube di Antenna 2 andando proprio nella sezione dedicata all'Antenna 2 Sport chiaramente condividere queste interviste con i vostri amici Whatsapp sui social insomma ovunque vorrete grazie mille al nostro Felix in regia l'appuntamento è rinnovato al prossimo martedì sempre puntuario alle 21.30 buonanotte a tutti